1945, fine della seconda guerra mondiale. Io ho 18 anni e che cosa poteva essere l'avvenimento principale dopo la guerra. La guerra è finita al 25 di aprile e una delle prime manifestazioni che avvenivano nei paesi era una funzione religiosa, che è la funzione religiosa del maggio. Allora il primo maggio c'è il famoso rosario della Madonna. Che cosa è successo? È successo che noi giovani e anche tutti gli altri che non potevamo uscire perché c'era il coprifuoco, perché non ci potevano tenere le imposte aperte e le luci dovevano essere molto basse perché c'era un aereo che si chiamava Pippo, il quale quando vedeva qualche luce buttava qualche bomba e quindi c'era un grosso pericolo. Quindi venivamo da un periodo di restrizioni, a parte tutto quello che poteva essere la presenza dei tedeschi, eccetera, eccetera, eccetera. È finita il 25 di aprile, ho detto, ma il 25 di aprile non è stato proprio termine, ci sono stati alcuni giorni perché prima ne sei venuto a conoscenza, poi è presenza, ma la manifestazione principale è stata il primo maggio. Allora abbiamo potuto uscire e dove si andava? Non c'erano le sale da ballo, non c'era niente e siamo andati tutti al maggio. Ma voi direte che cosa c'entra questo col maggio? C'entra che il sottoscritto, il mese di maggio, va ancora al rosario, non tutte le sere, ma qualche volta. Perché? Forse per fattore religioso, ma perché mi ricorda quella cosa meravigliosa che è stata la fine della guerra. e questo maggio è, per noi, è una specie di yoga, cioè questo recitare ripetutamente una Ave Maria, questa preghiera, è una cosa che ti fa allontanare da altri pensieri e ti aiuta a avere dei pensieri di tipo spirituale. Cioè c'è una forma ascetica che è aiutata da questa ripetizione di questo tipo di preghiera. Allora vado, a parte che quando mi hanno visto qualche donetta le prime volte e di, madonna, questo qui che lo ha messo, che lo ha messo, che lo ha messo al rosario, perché sembrava molto strana. E la Pia che ogni tanto tuttora la mevalda come per dire sarà. Ma non sanno il motivo vero. Perché il motivo vero forse non è tanto religioso. Ma perché, ancora vedete, questo parla dell'orario? Perché voglio vedere di collocare questo tipo di funzione nel 2015. Allora, mentre prima era una funzione frequentatissima, poi è andata via 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 scemando, ultima volta che sono andato eravamo in 23. Il più giovane, credo che gli avesse 60 anni, perché dei giovani non che ne era. E una volta una ragazza è andata a un rosario, che voi sapete che è recitato, molte volte quando muore qualcuno c'è il rosario recitato la sera prima. Questa persona non era mai stata al rosario, giovane, 35 anni, la quale dopo ci siamo salutati perché conoscevamo la persona che era morta e diceva, ma dottor, mi dica una roba, ma cos'è quel sbrodolamento lì? Come è quel sbrodolamento? Il rosario? Oh, dottor, ma scherzo. Ma quello è il sbrodolamento? Non parliamo delle litanie. Questa funzione è fatta da sei dieci Ave Maria o cinque volte si reccia per dieci volte e poi c'è questo rosario, Virgo Santissima, Virgo Bonissima, Virgo Virginissima, ed è una continua, ora pro nobis, ora pro nobis, adesso si disprega per noi. Oh, questa qua, e prega per noi, e prega per noi, e prega per noi, e prega per noi, per noi era uno sbrodolamento, per me non era uno sbrodolamento perché era un rituale che mi ricordava sempre questo grande avvenimento della fine della guerra. Allora mi sono chiesto, ma come mai siamo solo in 23? Poi vado a Malè, ad Arco frequento meno il rito religioso della messa, ma a Malè vado sempre. e mentre la mattina a Malè c'erano tre messe, dico tre, adesso ce n'è una sola e vi garantisco, ad eccezione del periodo turistico, ma nei mesi di mezzo, quando il turismo non c'è, la chiesa è per tre quarti vuota. Allora mi sono domandato, è diminuita la fede? Questo non posso saperlo. Che cosa c'è che non fa frequentare le persone, la chiesa, la religione? Ecco, allora mi è nata la curiosità, ogni tanto domando, ma ti va ta' messa? Ma si, ma di dottor, una filagna che lo finisca, predica, che continua a ripetere le stesse robe. Eh, ma anche effettivamente, ma di, ai funerali magari, ma di dottor, se al funerali non la finiva, puoi, se lo via da naroste, questi chi, la predica, la cosa, la cosa, la roba. E allora, ho analizzato ulteriormente, ed è vero, ed è vero. Allora, parlando con i nostri sacerdoti amici, Don Daniele, Don Stefano, eccetera, ho sempre posto queste domande, ho detto, ma scusatemi una roba. La chiesa rappresenta il nostro Signore, sì, e Gesù, come era? Stalla, il nevo nella zent, cose molto semplici. Sti apostoli, mi ho letto per combinazione Don Paolo e San Luca in un libro francese, un certo Courier, insomma, non che era tutto stamparadà. E allora mi sono domandato, ma se Gesù, a un certo momento, il piombisse in Vaticano e si trovasse di fronte a una guardia svizzera, che cosa direbbe? Ma dico, scusa, lui è il guardia svizzera? Sì, ma mia, fa parte della mia, no? E gli ho detto, sì, sono del Vaticano, Vaticano, ma cos'è questo Vaticano? Poi va avanti e trova un cardinale, rosso, capello, croce d'oro, eccetera, e si domanda, ma lui cos'è? Insomma, il cardinale, ah, cadi, a piacere, io sono invece un povero diavolo, guardi, vengo da una stalla, sono un falegname che si è permesso un certo momento di dire le robe. Allora, mi sono chiesto, ma se noi pigliassimo Zeffirelli, che è un regista notoriamente cattolico, e gli dicessimo, senta Zeffirelli, secondo lei questo rito pone l'attenzione della gente, fa in modo che la gente possa seguire questo rito, o si annoia, c'è qualcosa che non va? Probabilmente Zeffirelli, sì, direbbe, c'è qualcosa che non va. Allora, la fede è una cosa, e quindi non dobbiamo toccarla. Però, però, questo clero, per conto mio, la chiesa, deve capire che è cambiato il mondo. Siamo in un mondo di internet, una volta per scrivere una lettera te dovevi scrivere la lettera, metterla nella busta, mettere il boll, andare a cooperare il boll, mettere il boll, andare alla posta, imbucarla e la spedire. Dopo dovevi aspettare magari tre, quattro giorni, perché arrivasse la risposta. Oggi, ragazzi, con e-mail, mandi via, pochi secondi dopo, presto presto hai già la risposta di quell'altro. La gente va su internet, è velocizzata, la gente non è più abituata, quindi la gente, sì, la fede è la fede, io capisco, la fede è la fede, però l'attenzione della gente è molto più velocizzata, ha delle risposte molto più immediate, non è più capace di rimanere ad ascoltare certe cose per troppo tempo. Allora, io credo che della religione abbiamo bisogno, io personalmente ne ho bisogno, ma tante volte mi sono domandato, ma, 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 è possibile che nostro Signore Gesù abbia voluto una struttura così faraonica, così complicata? Pensate, ad Arco, un giorno vengo da Via Capitelli, e ho detto, ma va a chi, chi che è il padre Comboniani? Poi va avanti, chi che è il suore della Sacra Famiglia? Poi vado avanti, le suore delle missioni africane, poi vado avanti, i padri missionari, poi vado avanti, che è padre Monti, e poi vado avanti, che è il servi di Maria, poi vado a Bolognano e a Bolognano mi trovo quelli del Sacro Cuore. E tutti istituti diversi, con modalità diverse, i frati, i frati Capuccini e i frati. Allora, ma se la domanda, ma il nostro Signore Gesù Cristo avrà il voluto tutto sto sparpagliamento di roba, a parte il fatto che ha anche uno sparpagliamento economico, perché la casa chi? La casa là, in una che ne era dentro quattro, una che ne era dentro cinque. E quindi, non so, io credo che le ragioni di questa diminuzione della frequentazione, non voglio dire della fede, perché probabilmente è della fede, ma credo che dipenda molto anche dalla impostazione. Bisogna che si cambino quelli che sono i sistemi di trasmissione, cioè coloro i quali parlano e propongono gli atti di fede, devono essere, secondo il mio parere, molto più veloci, molto più concisi e molto più penetranti. Poi, cari signori, sul Padre Eterno, l'è meglio che ognuno discuta a modo suo, perché io sono di questo avviso e chiudo. Se noi a un cane mettiamo davanti la divina commedia, o lo so predirti, o Mero, o quello che vuole, che cosa dirà di quel libro? Vi dica il signor regista Gallas, che cosa penserà? Lo vede, vede delle righe. È la stessa cosa per noi quando pensiamo all'universo e pensiamo a Dio. è una cosa che molte volte la crediamo per fede e molte volte la crediamo, perché convivere con qualche cosa che ci fa sperare in un altro mondo migliore, di migliora onestà, di oggettudine, e che forse anche è la nostra prosecuzione, forse ci fa comodo e si vive meglio. Grazie. Grazie.